L'avviso arriva con un SMS dal Ministero della Salute. Certificazione verde Covid-19 è disponibile. Entro il 28 giugno è previsto che lo ricevano tutti i cittadini che ne hanno diritto. Per ottenere il Green Pass occorre il certificato di avvenuta guarigione dal Covid, oppure la certificazione, valida solo 48 ore, di un tampone antigenico molecolare negativo, oppure ancora aver fatto entrambe le dosi di vaccino. In Italia è possibile ottenere il pass anche dopo la prima dose, sempre a distanza di 15 giorni dalla somministrazione. In questo caso è valido fino alla seconda dose. Fino a lunedì dunque occorre aspettare che arrivino via SMS o mail i codici univoci dei certificati che si possono poi scaricare su PC, tablet o smartphone in versione digitale o cartacea. Dal 1 luglio, data di entrata in vigore della sua versione europea, il Green Pass potrà essere scaricato o stampato dal sito dedicato www.dgc.gov.it, come abbiamo fatto noi in questo caso, dal nostro fascicolo sanitario elettronico regionale, con il numero della nostra tessera sanitaria, dall'app Immuni oppure Io. In alternativa si potrà chiedere al medico di famiglia o al farmacista di scaricarlo tramite la tessera sanitaria elettronica. In Italia il pass serve per spostamenti tra regioni in fascia arancione e rossa, anche se al momento non ce ne sono, per partecipare a feste e cerimonie, eventi sportivi o spettacoli con oltre mille partecipanti all'aperto o 500 al chiuso, per andare a visitare i propri cari nell'RSA e, alla loro riapertura, per andare nelle discoteche. All'estero tutti i paesi europei lo richiedono per varcare i confini, anche se, ancora una volta, con modalità non del tutto omogenee.